I sindaci con il cerino in mano rischiano di pagare le conseguenze del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se decideranno di chiudere le strade e le piazze dopo le 21, avranno contro gli operatori del settore di ristorazione e quella parte della popolazione che li frequentano. Se invece decideranno di non intervenire, rischiano di avere sulla coscienza eventuali focolai e quella parte della popolazione che non si è sentita, tutelata e protetta. Soprattutto da quanto sta emergendo mancherebbe il necessario personale a disposizione per rendere operativi e far rispettare eventuali provvedimenti. Non meglio sembra essere andata a piscine e palestre per i cui titolari e clienti è iniziato un sadico conto alla rovescia di una settimana alla fine della quale il destino sembra già segnato, come nell'esecuzione di una condanna a morte. Le scuole sono un asset primario per il nostro governo e questa è una buona notizia. Sicuramente meno buona è la realtà taciuta da Conte e dalla ministra Azzolina. Docenti e operatori del settore denunciano una quotidianità fatta di banchi singoli promessi e mai arrivati, di docenti ancora non nominati, di classi pollaio nonostante i proclami e di interventi strutturali mai effettuati. Per non parlare dei problemi dei trasporti mai affrontati e dei medici scolastici mai nominati. Diciamo la verità, di fronte all'immo del governo, sembrano più giustificate e perfino alcune decisioni estreme prese negli ultimi giorni dal governatore Vincenzo De Luca. E poi c'è la sanità, in particolare la cosiddetta prima linea contro il Covid, che sembra essere la più in difficoltà. I medici di base sono ancora senza guanti e camice, già stremati da un carico di compiti insostenibili. Oltre i vaccini influenzali devono gestire anche i pazienti Covid sintomatici o poco sintomatici, che da casa chiamano per avere rassicurazioni e consigli su come affrontare la quarantena. 2,5 miliardi per la sanità non sono stati spesi, nelle città le file drive-in per effettuare i tamponi sono infinite. E le terapie intensive tornano in affanno, non perché a mancare siano i posti letto, ma perché a mancare sono i medici e gli operatori sanitari. Insomma, l'Italia non sembra pronta ad affrontare la seconda ondata dell'epidemia da coronavirus, nonostante fosse stata ampiamente prevista. I tempi dell'italica burocrazia sono infinitamente più lenti rispetto ai tempi del Covid. Ma la cosa più grave e preoccupante è un atteggiamento mentale abbastanza diffuso. Il Covid non esiste. Medici e infermieri a marzo erano eroi, ma se oggi denunciano la nuova situazione di emergenza che si sta vivendo in corsia, vengono ricoperti di insulti e di volgarità. Il Covid è un virus astuto e maligno e non dimentichiamo mai che la più bella astuzia del diavolo è quella di persuadere le persone che non esiste.